Noi siamo qui per attaccare, facciamo qui principalmente come opposizione per portare avanti una politica costruttiva che deve portarci a centrare gli obiettivi che sono soltanto e necessariamente di miglioramento per la colettività. Detto questo però, una rispressione è una cosa che diceva che lei, nel lavoro di Cristo, ha dedicato a Cristo i suoi predecessori. Io ho mai conto a migliorare le sue belle compagnie, perché fino a questo momento, in queste poche seduzioni di consigliere comunali, lei ha dimostrato di non essere migliora per le sue bellezze. Tanto è vero che non riesce a gestire una tenuta di consigliere. Quando ti con cittadini partono di lavoro, e allora c'è la necessità anche di cinque minuti di pausa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.